La crisi occupazionale di Rieti induce il sindacato alla mobilitazione permanente. Non basterà una sanatoria per sbloccare il sequestro di Largo San Giorgio, inchiesta in corso. Il lungo ponte del 2 giugno, tante iniziative e tanto traffico nella Sabina. Prosegue la polemica tra operai del comune e dirigenti sulle manutenzioni di Rieti. Alla selezione per diventare spazzini molti laureati e qualche polemica. Il sindaco di Poggio Catino nomina la nuova squadra governo. A Poggio Mirteto si accelera per la raccolta differenziata. FC Rieti vince su San Maurese e accede alla finale per la Serie D. NPC Rieti e Spugna Vasto in finale contro Latina. Buonasera e bentornati a una nuova edizione del TG di Sabinia Silver TV. In apertura parliamo del ponte del primo e del 2 giugno. Grande traffico registrato sulla salaria per Roma. Per il primo ponte estivo che ha riversato tante autovetture sia in entrata che in uscita ad Rieti. Una salaria che si dimostra ancora una volta un'arteria insufficiente e che ripropone il problema di macchine e mezzi incolonnati che procedono a passo Duomo. Molte le famiglie che hanno deciso di spostarsi verso il Martirreno ma anche molti romani che hanno deciso di trascorrere questo weekend nella campagna del capoluogo Sabino tra agriturismi e passeggiate in mezzo la natura. Inoltre a Rieti sono state tante le iniziative per il giorno della festa della Repubblica. Causa plus gli eventi si sono svolti in piazza San Francesco e in piazza Mazzini. In particolare in piazza San Francesco si è svolta la cerimonia ufficiale con lo schieramento delle rappresentanze militari e civili dei gonfaloni dei comuni con l'accompagnamento della banda musicale di Lisciano. E' stata bocciata la sanatoria delle officine Varrone di Rieti e la commissione edilizia ha respinto la domanda che riguardava l'ex chiesa San Giorgio. Sentiamo. Non soltanto la procura della Repubblica ma anche gli uffici tecnici del comune di Rieti a questo punto bocciano il complesso della fondazione Varrone. Respinta infatti dalla commissione edilizia comunale la richiesta di sanatoria delle irregolarità edilizie dell'ex chiesa di San Giorgio. facente parte del polo culturale delle officine. Sarà necessario a questo punto un piano di recupero. Infatti secondo le regole del nuovo piano regolatore non è omesso per gli edifici di categoria A2 quali quelli del polo culturale la ristrutturazione edilizia senza questo piano. Anche il genio civile ha rispinto la richiesta di rilascio del nulla osta antisismico e ha chiesto un nuovo progetto perché trattandosi di locali pubblici è necessario procedere ad una verifica strutturale. Un piano di recupero dunque sarà ciò che la fondazione dovrà presentare per risistemare le sorti di uno spazio culturale che sicuramente aveva entusiasmato i cittadini del capoluogo Sabino. E sale purtroppo la percentuale degli under 35 disoccupati nel centro Italia. Lo fa sapere un rapporto Istat. I sindacati della città di Rieti si mobilitano. Sentiamo il servizio. I sindacati della provincia di Rieti stanno pensando ad uno sciopero generale. L'ipotesi è stata lanciata nel corso di Mareate Rock Fest sabato 31 maggio. La manifestazione è dedicata alla musica e al lavoro. Ipotesi di sciopero lanciata dal sindacalista della Will Paolucci e già approvata anche da Palmerini dell'UGL. Questa causa della gravissima situazione occupazionale che affligge i giovani della città di Rieti. Lo rende noto anche un rapporto dell'Istat. L'indagine mette in chiaro una situazione che purtroppo si vive ogni giorno. Una flessione del numero dei giovani che hanno un'occupazione, il 20% contro il 27% del 2009. Tra coloro che hanno dai 15 ai 34 anni inoltre sale al 40 la percentuale di coloro che teme di perdere il lavoro. Nella fascia under 35 poi sembra che i diplomati siano coloro che hanno meno difficoltà a trovare un'occupazione. E la situazione che emerge dal rapporto Istat è simile sia per gli uomini che per le donne. La speranza di questi giovani di trovare lavoro è calamitata per il 70% nel settore terziario, soprattutto alla voce servizi. Solo il 27% invece lo cerca nel commercio, il restante nell'industria agricoltura e allevamento. Arriva la replica della presidente Asn Enza Bufacchi ai sospetti di re-irregolarità in merito al bando per l'assunzione a tempo determinato di operatori ecologici. Polemiche e sospetti rimbalzati soprattutto nel mondo dei social network. Il bando aveva generato sospetti sulla veridicità e correttezza dell'avviso pubblico. La Bufacchi replica così in maniera categorica. Agiamo nella piena correttezza, afferma. Se ci sono sospetti, probabilmente questi derivano da come l'azienda per tanti anni è stata gestita. Chi ha qualche perplessità può contattare direttamente me o l'azienda. E buone notizie arrivano invece per gli imprenditori e gli esercenti del centro storico di rieti. Dopo i disagi a loro causati dai lavori plus, arriva il risvolto positivo della medaglia. Sentiamo. Dopo le polemiche sorte intorno ai plus, arriva il risvolto della medaglia. I plus porteranno respiro ai commercianti messi in difficoltà dai lavori nel centro storico. Sembra ormai pronto infatti il bando per imprenditori ed esercenti per ottenere finanziamenti finanziamenti utili a compensare i disagi causati nel periodo dei lavori di riqualificazione. A metà giugno uscirà il bando e sarà indirizzato sia alle attività già esistenti, sia a coloro che intendono invece avviarle. È stato già stabilito l'ammontare complessivo finanziabile per ogni attività. Si tratta di 25.000 euro a esercizio commerciale a fondo perduto. Ed è stata delimitata la zona di intervento. Si tratta della zona che va dalle mura Miedevali al fiume Velino. Il finanziamento potrà essere usufruito per l'adeguamento strutturale degli immobili, il rinnovo degli arredamenti, l'acquisto di macchinari o l'installazione di telecamere di sicurezza. Il bando inizialmente era stato autorizzato dalla Regione Lazio per 200.000 euro, ma il Comune di Rieti, fa sapere il Vice Sindaco Emanuela Pariboni, ha deciso di implementarlo con ulteriori 500.000 euro recuperati attraverso i ribassi d'asta. Si è chiusa la seconda edizione della manifestazione Rieti, città senza barriere. Una manifestazione ideata da Mariano Gatti, presidente del Latev, per la lotta contro le barriere culturali e architettoniche che limitano la vita di alcune persone. L'obiettivo di quest'anno è stato quello di realizzare dei parchi giochi accessibili a tutti i bambini, anche a quelli con difficoltà motorie. Al Comune di Rieti è arrivata la valutazione funzionale dei dipendenti, una valutazione che, secondo i sindacati, ha dell'incredibile. I dipendenti, come gli operai del magazzino, ma non solo, alla fine verranno bocciati o rimandati, si fa per dire, a settembre dal dirigente. Sentite. Al Comune di Rieti arriva la valutazione professionale dei dipendenti e accade che gli operai del magazzino, e non solo, vengano bocciati o rimandati a settembre, si fa per dire, dal dirigente. La cosa ha mandato su tutte le furie tanto ai lavoratori che ai sindacati che giudicano incomprensibile l'atteggiamento del dirigente Cricchi. CGL, CISL e Will vanno giù pesanti e dicono sarà la conseguenza della valutazione negativa dell'attività dei dirigenti del Comune di Rieti recentemente effettuata dal nucleo di valutazione del sindaco o sarà un improvviso attacco di rigidità nei confronti dei dipendenti del sesto settore del Comune di Rieti, operai e manutentori. Fatto sta che in questi giorni ai peones del Comune di Rieti quelli che guadagnano mediamente 1.000-1.100 euro mensili sono state recapitate le valutazioni circa la loro attività relativa al 2013 valutazioni individuali per lo più nettamente inferiori alle analoghe valutazioni relative agli anni precedenti. Tale prassi che potrebbe comportare una decurtazione del salario accessorio già poca cosa per questi dipendenti avviene peraltro con modalità del tutto arbitrarie sarebbe scaturita da un clima difficilissimo che ultimamente si è venuto a creare nelle manutenzioni della città. Nel prossimo servizio parliamo del tavolo che si è tenuto presso la Camera di Commercio di Rieti tavolo nel quale si è parlato dei fondi europei per lo sviluppo regionale delle imprese e dove era presente anche l'assessore regionale Fabio Refrigeri. Concentrare le risorse selezionare i settori nei quali intervenire coinvolgere i territori e dare priorità all'innovazione questi gli obiettivi del tavolo territoriale per il partenariato Piano Operativo Regionale Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 2014-2020 che si è riunito alla Camera di Commercio di Rieti un tavolo dedicato all'intera provincia con la partecipazione di Fabio Refrigeri assessore alle infrastrutture, politiche abitative e ambiente della Regione Lazio un appuntamento finalizzato alla condivisione con le parti sociali le rappresentanze istituzionali protagonisti delle realtà economiche e sociali del territorio in merito alle priorità d'azione e le linee di intervento del Piano Operativo Regionale del prossimo settegno 2014-2020 perché è il che riguarda il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale Nella nuova programmazione la somma complessiva a disposizione del fondo per la Regione Lazio sarà di oltre 900 milioni di euro ossia il 34,4% del totale dei fondi europei destinato a Lazio nel prossimo settegno il Fondo Laziale avrà a disposizione circa 170 milioni di euro in più rispetto alla precedente L'amministrazione regionale affermato Refrigeri ha scelto di individuare in linea con il lavoro sin cui svolto con gli 11 obiettivi fissati dalla Commissione Europea per la Strategia di Europa 2020 una nuova programmazione che aggredisca le criticità del sistema economico regionale e promuova lo sviluppo e la ripresa attraverso interventi per innovazione ricerca e trasferimento tecnologico internazionalizzazione, infrastrutture materiali e immateriali sostegno al sistema produttivo e alla tenuta della coesione sociale del territorio La lotta al fumo purtroppo continua a essere un argomento di estrema attualità la sezione di reti della Lilt, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori ha partecipato alla giornata mondiale contro il fumo distribuendo materiale di propaganda contro la diffusione delle sigarette Inoltre la Lega fa sapere che mette a disposizione dei cittadini per chi vuole uscire da questa dipendenza del fumo del personale Ci spostiamo ora a Poggio Catino dove il sindaco Roberto Sturba sindaco uscente e riconfermato alla carica di primo cittadino con l'80% dei voti annuncia le prime nomine all'interno della sua squadra Mario Simonetti sarà il vice sindaco Assessore all'urbanistica e lavori pubblici sarà invece Walter Fersi A Poggio Mirteto e in tutti i municipi dell'Unione dei Comuni della Bassa Sabina è tutto pronto per far partire la raccolta differenziata porta a porta Lo rende noto la GEA SRL la società che gestirà il servizio Dopo mesi di gestazione i primi due comuni a partire saranno Tarano e Cantalupo a seguire Forano e Stimigliano poi sarà la volta di Poggio Mirteto I cittadini dovranno separare i rifiuti secondo le categorie più note organico, carta, plastica, vetro e alluminio Il personale della GEA passerà a ritirarlo porta a porta con la conseguente eliminazione dei cassonetti sul territorio La GEA fa sapere che chi è ancora sprovvisto del materiale necessario può recarsi nella sede della società in località Capacqua a ritirarlo E a Fiano Romano i residenti vivranno due giorni di grande disagi dalle ore 20 di martedì alle ore 18 di mercoledì 4 giugno Infatti sarà sospeso il flusso d'acqua verso le abitazioni per lavori urgenti di manutenzione alla rete idrica Bene, ci fermiamo qualche istante per la pubblicità e torniamo subito dopo con la pagina sportiva A limiti di Greccio Arredamenti Roberto Nobili Da oltre 40 anni sul mercato per arredare insieme a voi la vostra casa Vi invita a visitare i suoi due piani di esposizione dedicati solo alle vostre scelte I nostri stili Classico Moderno Design Soddisferanno tutte le vostre esigenze Guardate e toccate con mano Il centro cucine componibili Sice, Treo e Aran Le novità di Le Fablie Accademia del Mobile Grandi marchi di cui siamo esclusivisti di zona Tonin Casa Caccaro E tante altre firme prestigiose Arredamenti Roberto Nobili E anche progettazioni di interni E centro prova materassi e reti Dorelan Da noi potrai scegliere di personalizzare la forma di pagamento a seconda delle tue esigenze Arredamenti Roberto Nobili A Limiti di Greccio Da oltre 40 anni Arreda la tua casa Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Cronaca di Rieti, quello che non scrivono gli altri giornali A un passo dal centro storico, Gran Caffè La Lira di Zamporlini Un posto dove incontrarsi sarà un piacere Caffetteria, gastronomia, aperitivi e nel fine settimana happy hour Gran Caffè La Lira ti aspetta per offrirti il meglio Piazza Cavour, Rieti Centro C'è un angolo di paradiso nel cuore della Sabina Agricola Martelli, a Configni, azienda agricola biologica Vendita diretta a prodotti aziendali, macelleria aziendale Agricola Martelli, a Configni, provincia di Rieti, nel cuore della Sabina 7 e 30, ISE, ARRED, ICRIC Non rischiare Scegli la competenza, scegli CaffCNA Efficiente, fidato, sempre aggiornato Per compilare al meglio anche le richieste per l'esenzione ticket o il bonus energia Benvenuti in CaffCNA Sempre al tuo fianco, con competenza e professionalità CaffCNA, nel tuo interesse, sicuro Stai organizzando una manifestazione civile, patronale, religiosa su Rieti e provincia? La banda di Lisciano ha iniziato la sua stagione musicale Oltre 100 anni di esperienza Più di 60 musicisti Passione e dedizione al vostro servizio Affinché ogni ricorrenza diventi una festa Contatta la banda musicale Giuseppe Verdi di Lisciano Telefono 340-59-52-708 Per la tua pubblicità su Sabinia Silver TV Contattaci al 329-49-56-879 Oppure elismass76-ia.it Rientriamo con lo sport e ci occupiamo subito di calcio Lo FC Rieti ci dà delle belle notizie Vince infatti domenica scorsa 1-0 con la San Maurese E conquista la finale dei play-off Per la conquista della Serie D Sentiamo È stata un'impresa quella che il Rieti Calcio Ha messo a segno domenica in terra romagnola Vincendo 1-0 in casa della San Maurese Nel ritorno della finale play-off Rieti dapprima è passato in vantaggio Sul finire del primo tempo Con un gol realizzato da Cardillo Nella ripresa ha continuato a condurre il gioco Nonostante fosse rimasta con due uomini in meno Infatti sono stati espulsi In Gioiosi e Sabatini Ma nonostante due uomini in meno I ragazzi di Punzi Hanno saputo tenere botta ai romagnoli Grande soddisfazione nel volto di mister Punzi Il finale è stata una sofferenza Ammette Ma ci siamo dimostrati superiori E abbiamo meritato la finale Occhi puntati allora Per la finalissima dei play-off Nella doppia sfida Contro i marchigiani del Castelfidardo Che sempre domenica Hanno pareggiato sul campo dell'Alba Longa Eliminando i laziali La Serie D per l'FC Rieti Sembra ora sempre più possibile E buone notizie arrivano anche dal mondo della palla canestro Reatina La NPC Rieti vince su Vasto La gara 3 e vola in finale Sentiamo Nella gara 3 si poteva solo vincere E la NPC Rieti lo ha fatto Battendo Vasto 75 a 72 Una vittoria sofferta Quella degli Amaranto Celeste Dopo un buon invio di partita Già nel secondo quarto Rieti inizia ad essere in difficoltà Vasto si presenta all'ultimo quarto In vantaggio di 3 punti E la partita si fa serrata A 10 secondi dalla fine Il tabellone segnava 73 a 72 Scoda Volpe regala due punti Giampaoli però salva la squadra E mette a canestro i due punti Che dopo tanto sudore Fanno volare i reatini in finale Questa era una partita molto difficile Dichiarà coach Nunzi Abbiamo sbagliato l'inverosimile Anche in difesa abbiamo sbagliato molto Però non posso rimproverare niente ai miei ragazzi Che hanno disputato un campionato Immenso tra mille difficoltà Adesso massima concentrazione per la finale La NPC domenica prossima andrà a Latina Per la gara 1 contro la Benacquista E quando si parla di Pontini Nella palacanestro si sa Niente si può dare per scontato Conclusa con successo L'edizione 2014 del trofeo Leoni la corsa ciclistica Riservata alla categoria Under 23 Nicola Gaffurini vince in volata La gara precedendo Simone Sterpini Ivan Martinelli E il reatino originario di Forano Marco Bernardinetti Che ha chiuso al quarto posto Per ampliamento dell'azienda Sabinia Silver TV Ricerca personale da impiegare nel settore commerciale Chiunque fosse interessato Può contattarci telefonicamente al 337 10 50 204 O scriverci una mail all'indirizzo elismas76-yahoo.it Bene il Tg di Sabinia Silver TV Termina qui Io vi auguro un buon proseguimento di serata Arrivederci ATRAMTO A respekt A Visteria A Visteria A Visteria A Vistaria